There's no place I'd rather be Oddio, cosa è successo? Sto esplodendo Raga, voi non ci crederete mai per cui ho voluto fare sto video? Eh? Non so chi di voi conosce questa youtuber Elsa Ma con chi sei parlato? Perciò di iscrivervi su Steam E secondo te? Non so Ti ho detto faccio il video perchè sennò non mi crede nessuno Non mi stai facendo il video di cazzare Se voi cercate su youtube Kitty Playgame La trovate, dai mi faccio mangiare sto pezzo, cazzo Mi faccio esplodere No, no, no non mi mangiare, non mi mangiare Kitty Praticamente ero più grosso di lei poco fa Vai mangiammi qua Eh? Grande, mi sta bussando, mi sta bussando No, 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 no Merda Vabbè io nel frattempo mi muto C'è uno che si chiama Agorio O scrivetelo su internet O scrivetelo su internet Sì Agor.io non vi succederà nulla No, no, no Tancri Merda Mi lagga tutto Nella zona, vabbè è muto Vabbè Questo video uscirà come secondo video di domani Dedicato a Kitty Se non ho conosciuto Ma guarda che non è veramente quella Sì veramente lei Sono un sacco di copioni la che copiano la gente Eh, lo so ma sei da quanto la sei Anche gente che copia me Capisco, ma perché sto laggando? Sei laggona Dove basta, mi è muto No, sei lagga di connessione Sei laggona, ho detto Vabbè è muto Vabbè Tu 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 Intanto la gente, qualcuno mi ha scritto su Steam Io non leggo perché sono un bastardo Sì, coglione Oh, mi sono mangiato l'Italia Però Kitty Play Games è decima, era quarta E' il secondo video bonus Questo qua Di oggi Ho iniziato a registrare perché ho detto no Quella lì è veramente Kitty Per chi non la conosce Che avevo detto Scrivete Kitty Play Games su YouTube Sono un po' stanco Per cui sono Non c'avevo voglia di registrare Però ho detto Cazzo c'è Kitty Si è chiamato Kitty's Fun Così mi gusta E' la più grande idea Però mi ha fatto esplodere È diventata piccola È diventata piccola Nooo È stata mangiata Raga tutto in diretta Tutto in diretta Oh zio, oh zio Come è enorme? Ti spacco le botte Ti spacco le botte No Intanto c'è un video C'è un po' di maniare C'è un po' di pezzi Cos'è che c'è scritto? C'è un po' di maniare Ragazzi io per concludere questo video Era un video cortissimo Bella raga Ci vediamo con un nuovo video domani Alle 16 Ciao